Il progetto politico di Aguinasciazione, che uno non lo può tradire, e ci vuole tempo per realizzarlo, è quello di dire, guardate, ci sono delle forze della ragionevolezza che si riconoscono in che cosa? Nell'Europa? Si riconoscono in un modo di affrontare i problemi pragmatici? Poi possono avere idee diverse. Sono quelli che lavorano insieme in Europa. Il Partito Popolare, il Partito Liberale, il Partito Socialdemocratico e il Partito Verde. Io quello che credo che manchi in Italia è di replicarlo questo modello. E la costruzione che voglio fare di una forza politica, che si vada a riprendere i voti, perché il professore dice una cosa verissima, il principio fondamentale per cui il Paese si modernizzerà è quando la gente sarà libera, sceglierà sulla base di chi li convince di più, non sulla base di un'etichetta. Questa è una cosa che il professore riconoscerà alla citazione, è una servitù volontaria. Io lo dicevo sempre ai miei elettori, voi dovete coltivare il dubbio rispetto a quello che vi dico io, perché io non voglio nessun voto fideistico. La vostra potenza di cittadini è dire io non attribuisco il voto a prescindere a nessuno. Sono di destra, ma se tu non mi metti un candidato come si deve. Io non ti voto. Perché votare una persona sbagliata, come noi abbiamo imparato in troppi anni, anche se è appartenente alla tua parte politica, conduce al declino dell'Italia, al declino di una città. La libertà di dire io voto per quello che ha lavorato di più, l'ha fatto più seriamente, è una proposta più realizzabile. Quando noi acquisiremo questa libertà, noi modernizzeremo il Paese.